ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su control gioco uscito in esclusiva temporale su per pc per quanto riguarda il pc su epic store è disponibile anche per le console perché vi porto questo video non è propriamente un gioco indie però ho voluto portarlo perché ultimamente non si fa che parlare di questo titolo e ogni volta che lo vedete giocare vedete un sacco di gente che si tira insomma si si esalta per le luci per tutto e qui è e poi alla fine quello che si va fondamentalmente a vedere sono sempre le stesse cose quindi voglio provare a farvi un'analisi mia di questo gioco perché il gioco è stato pubblicizzato soprattutto per il suo supporto e la sua ottimizzazione per la RTX quindi tutte le da RTX 12 tutte le nuove schede RTX la 2060 la 2080 il ray tracing cioè in pratica ogni volta che voi guardate un video che guardate una recensione vedete questi mega effetti e tutti che dicono ma direzione artistica spettacolare di qui di là però alla fine io non avevo non ho una GTX 970 non supporta la ray tracing e mi sono chiesto come reggerà il mio pc dovrò cambiarlo? in realtà il gioco gira abbastanza bene dico abbastanza perché qualcosina si potrebbe limitare però ho messo l'impostazione tutto alto addirittura le texture ultra e gira bene con una 970 ovviamente non ho minimamente gli effetti di luce del ray tracing anche se in realtà sembra che diventi tutto uno specchio quindi anche il fatto che comunque i vetri riflettessero quello che hai alle spalle nei giochi onestamente non me ne ero mai accorto che non era supportato comunque vabbè non è così diciamo esagerato dal mio punto di vista cioè la grafica comunque si fa si fa ben guardare e quello che è questo gioco beh molto semplicemente è un percorso diciamo mentale unirico insomma un qualcosa che vi tiene incollati per lo più per la storia perché noi siamo finiti in questo centro in questo buro quindi centro del di controllo controllo insomma e non sappiamo il perché e per per scoprirlo dovremo consultare tutti i documenti collezionabili che troviamo in giro quindi tutti i documenti riservati che vi faccio vedere molto rapidamente perché anche qui io non io porto rispetto per le vostre future partite quindi non voglio spoiler vi trovo vi spoiler diciamo giusto giusto l'inizio guardate la figata del gioco che dimostra che ovviamente è fatto bene guardate come ruota bene tutta la parte qua delle degli ingranaggi cioè è curato bene ovviamente vedete riflette ovviamente in ray tracing avremmo avuto un riflesso quasi a specchio bello eh però insomma se ne può fare a meno noi ci ritroviamo in questo bureau of control perché vabbè spinti da una motivazione personale della protagonista c'entra il fratello comunque l'approfondiremo andando avanti una volta che arriviamo troviamo il direttore che si è presumibilmente suicidato e un'altra dipendente ci chiama una volta saputo il nostro cognome ci chiama ci definisce il direttore quindi noi non sappiamo se il nostro arrivo qui era previsto se siamo diventati direttori così o c'è qualcos'altro sotto comunque sappiamo che c'è una forza malvagia che si è impossessata dell'edificio e soprattutto dei suoi abitanti dei suoi lavoratori tranne alcuni che avevano adottato delle contromisure il gioco è fatto di missioni sotto missioni diciamo missioni secondarie in questo caso dobbiamo andare nel dipartimento delle comunicazioni e trovare un telefono rosso di cui ci hanno parlato ci hanno detto ci hanno fatto vedere il gioco è pieno di video il gioco non è doppiato in italiano ma ha i suoi sottotitoli allora vedete che adesso poi noi possiamo andare a sparare usando una pistola ad energia che si rigenera vedete che non è proprio una pistola convenzionale perché ha questa forma diciamo che fluttua ed è abbastanza il gioco lo avete sentito più e più volte sfrutta il backtracing quindi backtracing si dice insomma quelle cose che vi fanno tornare sui vostri pass infatti qua non abbiamo la tessera per aprire il livello 1 e quindi in futuro potremmo trovarla e tornare indietro il gioco inoltre ha una sorta di regista super partes diciamo che ci osserva e in base al tempo trascorso va a rigenerarci i nemici io qui c'ero già venuto prima prima di iniziare il video e probabilmente adesso non mi rigenererà i nemici a meno che non ho aspettato troppo qua vedete che apriamo e andiamo a recuperare materiali materiali che poi ci serviranno per il crafting in questo caso invece trovo un altro documento costi di viaggio dove possiamo andare a vedere non mi ricordo, vabbè qua abbiamo le mod personali che possiamo andare a fare recupero della salute miglioramento della salute, no recupero la salute preferisco mettere questo abbiamo fino a 24 potenziamenti per l'arma che andrà a modificare la sua forma fino a diventare anche un fucile a pompa o una mitraglietta in futuro costi di viaggio, ecco questo è il documento che abbiamo sbloccato quindi andiamo a sapere un pochino quella che è la vita dei dipendenti cosa che si vedeva anche su Prey ad esempio il gioco Control che mi ricorda tantissimo Prey troveremo morti, persone fluttuanti e dovremo fare attenzione perché comunque i nemici cercheranno sempre di stanarci dal nostro nascondiglio visto che sono comunque granate adesso qua mi sono accorto che hanno sparato quindi direi che poi il livello di sparo è carino poi non badate al fatto che il gioco ha dei micro scatti perché purtroppo in una cosa il mio PC soffre un pochino ed è questo multitasking di acquisizione video e di gioco sono rimasto sorpreso, devo ammettere che comunque su multiplayer mi avevano risposto anche abbastanza male perché avevo chiesto se avrei potuto giocarci bene con una 970 la risposta mi è stata data un po' così del tipo no sicuramente non ci giochi come ci giochiamo noi adesso per capire, vedete la re-tracing ma non mi avevano chiarito pienamente i dubbi su quello che poteva essere la mia performance grafica l'ho avviato e il gioco mi è sembrato comunque leggero andando avanti è un pelo meno leggero però assolutamente mi rende orgoglioso di avere ancora un PC che se la cava egregiamente con tutti i titoli ovviamente il fatto di spendere 2000 euro di PC nuovo cosa che sto comunque valutando di fare ma non solo per contro comunque il discorso è se volete spendere 2000 euro di un PC nuovo con una 2080 e una 2060 quello che è per vedere il re-tracing quello è un ragionamento personale guardiamo la mappa, la mappa mi ricorda sempre più Prey quei giochi lì, anche Deus Ex se volendo per questo sistema di mappa lettere non recapitate il gioco è criptico è il termine giusto per definire tutta l'avventura perché non sappiamo niente quello che ci spinge ad andare avanti è sapere, leggere in questo caso abbiamo trovato questo abbiamo fatto un sogno, ho costruito ciò che ho visto in esso una macchina che ospiterà Dio ma non il Dio che conoscete quelli che tutti conoscono o quelli che tutti conoscono un nuovo Dio, una macchina sarà il suo corpo, la sua mente l'ho creato, avremo come un sogno che non ho stato c'è gente che ha dei viaggi personali, mentali e anche noi li avremo perché comunque ci ritroveremo in quell'ambientazione fatta tutta a cubi, colonne che avrete sicuramente già visto nei numerosi gameplay la cosa bella del combattimento è che comunque è tutto distruttibile quindi possiamo andare, vedete, a prendere questo eh, mannaggia non abbiamo delle vere e proprie munizioni ma abbiamo una sorta di energia eccolo lì un'energia che si ricarica allora, quando noi moriamo ripartiamo dall'ultimo checkpoint ovviamente dobbiamo ricordarci che i nemici quando muoiono lasciano delle sferette blu per terra e quindi le possiamo recuperare e ripristinare la nostra vita poi, è da vedere io trovo questa grafica un pelino forse senza retracing un pelino pallida un po' quasi da console però, beh siamo ripartiti abbastanza indietro perché dobbiamo rifare tutta questa parte qui però diciamo che di gameplay ne avete già visti un'infinità su control ovviamente vedete queste voci che ci sono in sottofondo che parlano ne avete già visti tantissimi e se intanto non sarò io a farvi conoscere il gioco ma volevo darvi un'opinione perché mi piace comunque analizzare i giochi mi piace analizzare oh un'area questo è un'area di qua oh che cacchio oh ok qui l'is è troppo potente ok questa è una zona in cui questo is che ho un nome ho nomato poi ho nomato peico perché è il suono che fa questa entità is quindi l'ho chiamato is e quindi speravo di aver trovato in video una zona segreta in realtà sono solo morto e devo ricominciare che allora ho visto che comunque la durata di questo gioco dovrebbe stanziarsi so che è un range abbastanza elevato ampio tra le 10 15-20 ore insomma dipende quanto poi lo rigiocate esplorate insomma non è una lunghezza piccolissima cortissima anzi però ecco si può andare chissà quando potremo andarci quindi quando noi ritorniamo sulle zone già esplorate il gioco ci genererà dei nemici i nemici non finiranno cioè non è che una volta uccisi tutti spianati tutti non ne avremo più i nemici continuano ad arrivare devo trovare il telefono blu però il problema è che devo arrivare alla mensa quindi devo andare di qua vedete che ci sono dead letters sembra la metto un po' sul divertente quei dipartimenti un po' alla fantozzi ufficio bustarelle insomma questo è il dipartimento lettere non recapitate ecco è là dove sono morto prima però sicuramente morirò di nuovo quindi eccolo lì è una sorta di boss fight questa e vedete che gli butto giù la l'armatura no non è una boss fight non la definirei tale però vedete che ha buttato quelle sfere blu e adesso poi ci sono scarsissimo linee alla mira no la cosa che comunque dà soddisfazione nel gioco è il poter sparare sentire questo feeling con l'arma comunque almeno per la pistola non dobbiamo tenere premuto il tasto ma con i grilletti del pad o il tasto del mouse dobbiamo cliccare ogni volta per sparare e più avanti potremmo prendere dei potenziamenti che ci permetteranno di volare di fluttuare più che volare e di prendere oggetti qualsiasi oggetto quindi da quell'armadio lì che vedete che se io sparo i cassetti saltano fuori i carrelli gli sgabelli le sedie e tutto e scagliarle addosso i nemici questo aumenterà notevolmente il combattimento combattimento che ricorda un pochino anche quantum break che arriva dagli stessi sviluppatori quantum break l'ho adorato perché io sono un fan dei delle storie con viaggi temporali teorie temporali e gli stessi sviluppatori anche di Alan Wake Alan Wake che è stato per me una non dico una delusione ma una mezza delusione che mi sarei aspettato comunque di più qua vedete che non me riprende perché sono già al massimo della vita e qua c'è una zona dove possiamo purificare qua ricordo un po' Dark Souls purifichiamo una zona un punto di controllo da dove poi ripartiremo in caso di e vedete che poi riprende tutto la sua forma da questa forma diciamo cubica riprende la sua forma normale quindi andiamo a purificare dall'entità malvagia l'ambiente diciamo è quasi tutto distruttibile ma la cosa bellissima adesso io se riesco lo faccio vedere eccolo lì guardate che bello cioè ok poi dopo qualche istante va via però mamma mia mamma mia ragazzi queste cose mi piacciono poi credo che comunque un gioco vada giudicato un po' in generale non dire soltanto wow che effetti di luce io se la vostra domanda era ci posso giocare se ho un buon pc ma non ho il retracing alla fine fondamentalmente vi deve piacere una cosa vi deve piacere sparare un po' la metroidvania l'hanno definito così quindi si salta si uccidono nemici ci sono tanti video messaggi cryptic vedete ci sono attori reali che recitano in Control quindi se vi piacciono quelle storie un po' misteriose abbastanza astratte insomma dove rimanete incollati comunque per sapere nuovi dettagli volete il finale a colpo di scena insomma ecco Control fa per voi anche senza retracing ve lo garantisco se invece preferite qualcosa di un po' un pochino più magari più vario come ambientazione perché qua si svolge tutto nella mente e all'interno del Bureau of Control di New York quindi all'interno di questo edificio che poi più in piano si va a esplorare è un po' come alla fine era anche Prey perché alla fine era tutto dentro la stazione spaziale anche se lì si variava un po' di più con gli ambienti esterni magari gli ambienti delle serre e così via se vi piace comunque questo discorso vi piace uccidere nemici sparare il gunplay dove si spara si ricarica si potenzia non ovviamente a livelli di gioco di ruolo ma vi piace stare incollati al gioco per la storia Control fa per voi sicuramente e non c'è nessun bisogno secondo me di andare a spendere mille mila soldi per farvi un nuovo pc il gioco 970 ripeto io ho sofferto di più vi dico con No Man's Sky prima delle numerose patch che hanno rilasciato perché mi soffriva tanto ed era una brutta ottimizzazione ma qua mi sono stupito già dall'inizio perché di solito la pesantezza si percepisce già mamma mia già dal menu ma era molto leggero mi sembra molto ottimizzato che cacchio c'è qua sì poi in effetti quando io mi trovo di fronte a scene di questo tipo con queste sale enormi così capisco anche che comunque ci sia dietro una bella scrittura diciamo di di ambientazioni però ripeto vi deve piacere questa cosa perché comunque ci saranno degli enigmi ambientali dei boss che non si possono battere ma vanno solo diciamo inchiusi in apposite stanze quindi non bisogna usare anche un pochino la testa intanto adesso stiamo evitando sonoro bello il fatto che comunque si distrugga praticamente tutto guardate come la scatola si smonta e oppure si stacca il coperchio quindi è figo il gioco è carino lo abbiamo analizzato in questo breve video da un altro punto di vista quindi non dal wow ma dal a chi è dedicato come comunque io ho sempre basato i miei video quindi io spero che abbiate gradito poi gli effetti volumetrici delle delle come si dice il monitor volumetrici delle del fumo non mi sembrano comunque male quindi mi sto divertendo mi sta piacendo il gioco costa se non sbaglio 59 euro sull'epic store non credo meno sul console e non c'è al momento su siti di che quindi direi che se vi piace acquistatelo siamo arrivati qui ma qua moriremo molto male perché qui c'è questa mannaggia cosa possiamo fare qui che cacchio F ah il dischetto del del video parla sempre questa entità questa voce fuori parla sempre di con questo slash tra una parola e l'altra cioè fa un discorso che vale per due termini diversi in questo caso diceva discreto arma nucleare quello che era vedete ci sono sempre questi discorsi qui questi ragionamenti che fa questa vedete è la parte diciamo quella un po' più un po' più astratta che vive lei nella sua mente ah ok abbiamo sbloccato un potere premuto e lancialo ok qua abbiamo imparato a raccogliere gli oggetti allora così poi finiamo il video avete visto il ray tracing avete visto tutti i video in cui wow 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 allora qua siamo impostazioni alte texture ultra senza il ray tracing su un pc di fine 2014 quindi quasi 5 anni a me piace c'è poi ovvio che ho saputo che la superficie non riflette l'ambiente intorno perché è una caratteristica del ray tracing e se no non puoi farlo non me ne ho mai accorto perché comunque un minimo mi sembra che rifletta però se volete il pelo nell'uovo se ne sta parlando secondo me è troppo di questa cosa ho sentito proprio parire entusiasti entusiastici ma decisamente troppo bisogna un attimino guardare anche il resto ok che cacchio ah ok ok è un puzzle alla fine poi ci saranno anche dei mostri da battere qui è una sorta di hub mentale questo che ci permetterà di andare avanti poi sicuramente molto sicuramente è meno bello che usando quella tecnologia lì quello senza dubbio ma anche uno stupido se ne accorgerebbe perché si vede si vede che non è bello come come con quegli effetti e qua si spara si poi da anche la sua soddisfazione un po' anche alla come mass effect si non con quei lanci con quei combattimenti dinamici alla deus ex però insomma da divertirsi ce n'è uh po 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 ricarica mettiti giù ah ma giustamente eh no devo tenere premuto mi manca ancora un po' di un po' di pratica in queste cose eh si ma devo devo essere più ok si infatti me lo sta facendo fare per colpire i nemici non per usare la pistola ok fatto si poi si può attivare disattivare una sorta di automira non dicevo non è che vi sposta al mouse però diciamo da quell'aiutino in più che comunque non è eccessivo ma che evita magari un po' di frustrazione il flash pdisc è legato slash consegnato avete fatto tutto così criptico liss antagonista sta cercando ok vedi sparita tagliata fuori ah stanno ancora comunicando con noi c'è da la gente giù lì che non interferisce fino al momento in cui non spariamo ok però ecco se volete magari un gioco dove non sia tutto così da da sparare costantemente e non è il vostro gioco quello sicuramente perché il combattimento è la base di tutto quello che non è tedioso è il combattimento quello sicuramente però dovete piacere di sparare il fatto di comunque morire e ripartire essere un po' più tattici della volta prima e tra un combattimento e l'altro un'esplorazione e l'altra si va a scoprire dei misteri così come guardando un film si vanno a delineare tutte le le trame e le sottotrame allora e se io continuo a non ragionare con il nuovo combattimento infatti non si vede niente ma devo cercare di capire dove è finito il pirrone ok ok è stata abbastanza devastante la mia ok recuperiamo un po' di vita poi ovviamente quando avremo tutti i poteri riusciremo a fare più cose sarà ancora più divertente però il gioco non è assolutamente marcio eccolo di un altro adesso scenderà di sicuro dalle scale quindi io lo aspetterò da qui con anzi andiamo a prenderlo proviamoci ecco oh ma posso riprendere ancora questo fascio di cavia c'è bello 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 bene ragazzi questo racconta con una diciamo uno svolgimento di video un pochino diverso dalla norma insomma spero abbiate gradito spero mi lascerete un commento mi fate sapere cosa ne pensate del gioco cosa ne pensate del video e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi ciao ciao ciao